Tengo questa breve lezione sul tema neoliberismo e ordo-liberalismo, caratteristiche e problemi da un punto di vista filosofico-politico. Gli autori che sono alla base di quel paradigma economico che definiamo neoliberismo sono da una parte riconducibili alla scuola austriaca e quindi Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, alle spalle Wilfredo Pareto e d'altra parte riconducibili alla scuola di Chicago, cioè Milton Friedman. Siamo a livello di premi Nobel nel 1974 per Hayek e nel 1976 per Friedman. Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? Per quanto riguarda la storia, abbiamo detto, ha origini tardi-ottocentesche, prima-novecentesche. Sotto la sua entrata in vigore come paradigma che sorregge l'attività economico-politica reale, è intorno alla metà fine degli anni 70, dopo il collasso dell'ordine economico di Bretton Hood e dell'ordine politico-economico del keynesismo. Collasso determinato dall'inflazione generata dagli Stati Uniti nella guerra in Vietnam e dai paesi produttori di petrolio come reazione alla guerra israeliana. Che pur che collasso provocato dal fatto che quel paradigma keynesiano di Bretton Hood, che era un paradigma fondato sopra la lotta alla disoccupazione e sopra la domanda interna, quel paradigma non ha retto il fenomeno che si è formato a metà degli anni 70, cioè la cosiddetta stagflazione, l'insieme di stagnazione e inflazione. E' stato sostituito abbastanza rapidamente e con grande successo dal paradigma neoliberista, che è un paradigma che ha come nemico non la disoccupazione ma la inflazione e come centro teorico la lotta contro la teoria classica del valore lavoro, tanto di Smith e Riccardo quanto di Marx. La lotta contro questa tendenza attraverso uno strumento, appunto il marginalismo, che attribuisce il valore della merce non alla quantità di lavoro che gli è incorporata, ma a quanto è disposto a pagare il consumatore marginale, l'utilizzatore marginale. Dunque è un paradigma che ha come proprio fondamento metodologico l'individualismo, presuppone un individuo libero, razionale, perfettamente informato, consapevole dei propri bisogni, capace di operare scelte razionali ben calcolate e in questo paradigma economico incrocia un paradigma politologico che è quello della public choice theory di Tulloch e Buchanan, ma anche di Olson e di Downs. Sono forme di lotta attraverso il meccanismo dell'individualismo e della libera scelta contro le valutazioni, le concezioni olistiche della società e della politica. Ora, la tesi di fondo è del neoliberismo, è che un'economia di mercato lasciata libera di svilupparsi secondo le proprie logiche immanenti è un'economia in equilibrio. Le logiche immanenti sono, da una parte, che gli individui abbiano quella capacità di scelta di cui abbiamo già parlato, dall'altra che i produttori di merci e di beni siano in concorrenza fra di loro e non facciano cartelli. Se questo succede domande e offerte si incontrano. Questa è un'economia dal lato dell'offerta tuttavia perché dà valore principale al fatto che i beni vengono prodotti e offerti alla libera valutazione dei singoli individui, il che vuol dire che vi è una certa resistenza rispetto ai bisogni. Gli individui dei bisogni vengono in un qualche modo indotti dall'offerta. Sotto il profilo dell'economia reale, questo significa la fine della grande produzione fordista per stock, fabbriche enormi e enormi magazzini di merci e invece produzione just in time, cioè estremamente flessibile sulla base dei picchi di domande e di offerte che di volta in volta si presentano. Il paradigma neoliberista è fondato sulla flessibilità, è contro ogni forma di rigida razionalità che venga imposta alla società e ai liberi comportamenti degli attori sociali ed economici. questo è fondato sulla mobilità, è una forma di mobilitazione, è fondato sopra la flessibilità e quindi la chiede. Chiedere flessibilità vuol dire smantellare lo stato sociale e smantellare il concetto di diritti che sono per loro natura dei blocchi, delle interferenze variamente motivate rispetto al libero fluire dell'economia. La capacità dell'individuo di scegliere fra le merci offerte sulla base del proprio utile è l'elemento che è stato largamente enfatizzato perché il paradigma venisse socialmente accettato, è stato largamente enfatizzato perché è stato un elemento di liberazione. All'individuo è stato sostanzialmente detto liberati dalle forme olistico-oppressive dei sindacati, dei partiti e dello Stato che ti governano e che hanno la pretesa di indicarti il tuo bene, tu solo sei il giudice del tuo bene, agisci liberamente, entra nel grande gioco della domanda dell'offerta della autoaffermazione, sostanzialmente questo è stato un appello all'individuo contro la società, contro lo Stato per la autoaffermazione contro l'essere governati. Quindi questo elemento dell'autoaffermazione è un elemento di forte presa vitalistica sopra la società e gli individui, questa scomposizione della società in individui a cui si chiede di essere certamente flessibili e sostanzialmente rispettosi delle logiche del capitale, ma dall'altra si, questi individui vengono invitati a essere attivi, fortemente attivi, a mettersi in gioco, a rischiare, a perseguire in modo abbastanza spregiudicato il proprio utile. Allora voi capite che qui abbiamo dietro questo, poi abbiamo degli slogan politici, abbiamo lo slogan della signora Thatcher che è stata la principale protagonista dell'affermazione dell'organismo in Europa, la società non esiste, non c'è nulla che possa essere definita società, esistono gli individui e le famiglie. Dall'altra voi avete, grande esortazione di Steve Jobs, stay full, stay hungry, cioè l'esaltazione di una vitale, scomposta, audace volontà di vita e di autoaffermazione. Naturalmente tutto ciò è una grande offerta, è una grande promessa che vuol dire per l'appunto riusciamo a produrre una quantità di ricchezza tale che non solo ce n'è per tutti, ma una quantità di ricchezza tale che dentro di essa ciascuno può a sua volta diventare imprenditore. Sostanzialmente l'individuo è un imprenditore, il paradigma economico si sostituisce integralmente il paradigma umanistico. L'individuo esiste in quanto imprenditore, la società coincide col mercato, la società è l'insieme, è soltanto l'insieme delle azioni volte all'utile e naturalmente quando c'è l'utile c'è nello stesso momento la valutazione, cioè ogni atto di perseguimento dell'utilità è anche un atto di valutazione dei costi e benefici. Dunque un universo di totale economicizzazione della società e di totale sottomissione di tutti alla valutazione. I produttori di beni sono sottoposti alla valutazione dei compratori, dei consumatori e ciascuno nel proprio ambito di lavoro è continuamente valutato. nessuno, nessuno è al sicuro, non vi sono. Come non vi sono pasti gratis, grande assioma del neoliberismo, cioè non può esistere alcun ambito sociale sottratto alla valutazione economica, delle logiche economiche, così non vi sono posti gratis o comunque posti una volta raggiunti i quali non si sia in ogni caso tenuti a dimostrare di meritarseli. Dunque c'è un elemento di merito, quello che non c'è è l'elemento dell'uguaglianza. In questo universo non solo prevale la mobilità sulla fissità non solo prevale il rischio sopra la sicurezza, ma in questo universo prevale la competizione sopra l'uguaglianza. Un altro grande slogan è competition is competition. Ora, sotto il profilo della politica in senso stretto, che cosa comporta il neoliberismo? Comporta una serie di disinvestimenti rispetto allo Stato. Lo Stato, lungi dall'essere Stato etico, è uno Stato che deve perdere perfino la propria sovranità. La grande ostilità verso il concetto di sovranità nasce all'interno delle logiche neoliberali perché la sovranità ha in sé vari aspetti e anche vari problemi, insomma varie manifestazioni di un potere che non sempre può essere messo sotto controllo, ma certamente ha in sé la sovranità, la presunzione, l'idea che il potere politico è superiore ad ogni altro potere. Può essere il potere politico più democratico di questo mondo e più rispettoso di ambiti individuali e sociali dentro i quali non può entrare o può entrare soltanto in punta di piedi e tuttavia a livello macro il potere politico è superiore ad ogni altro potere. Fra un ministro e un grande capitalista è sicuramente il ministro colui che detiene un potere legittimo. Il grande capitalista è una persona che ha avuto l'abilità o la fortuna di diventare ricco. Il ministro, se è il ministro di un governo che ha la fiducia del Parlamento, è una delle manifestazioni della volontà politica collettiva di un popolo, anche se non è direttamente rappresentante in quanto membro dell'esecutivo. la riduzione della politica a strumento dell'economia e come prima manifestazione di questa sua strumentalità le riforme che vengono chieste dai poteri economici alla politica e sono riforme volte a smantellare lo stato sociale, eliminare diritti, eliminare lacce e lacciuoli, eliminare privilegi, eliminare sacche di inefficienza, tra cui anche la burocrazia e dunque volte tutte azioni politiche che devono essere tutte volte a rendere libera, facile e fluente la vita del mercato e dell'ordine capitalistico che, ripeto, è ordine in sé, è capace di essere ordine, cosmos, naturalmente distinto da taxis che è invece l'ordine imposto dall'alto, l'ordine del razionalismo costruttivistico. Il neoliberismo è l'esaltazione di una visione dell'uomo, della società, dell'economia, della politica e della morale che è interna al razionalismo moderno ma che viene più dalla tradizione dell'empirismo che non dalla tradizione del razionalismo. Neoliberismo è un punto di convergenza di una serie di posizioni teoriche volte alla decostruzione degli universali sociali, economici e politici, appunto, come dice, anti-olistico. Sempre sotto il profilo politico, questo vuol dire che la società viene rappresentata come un insieme di individui e dunque i partiti devono essere partiti di opinione e non partiti di classe. La società viene rappresentata come sostanzialmente un insieme e il rapporto con la politica è un rapporto che viene pensato come episodico, non strutturante, non è la politica a strutturare la società, è l'economia. La politica deve avere quegli ruoli strumentali che vi ho detto, funziona attraverso forme di cattura dell'interesse e del consenso che stanno a metà fra l'utile e il dilettevole, cioè fra la promessa di benefici economici da una parte e la proiezione carismatico spettacolare dei desideri e delle frustrazioni dei cittadini in un leader. Un leader che però, attenzione, non deve essere un vero leader carismatico dotato di capacità di potere politico autonoma. Deve essere un leader simpatico, capace di attrarre voti, il cui obiettivo tuttavia deve essere quello di produrre consenso. Consenso a che cosa? Consenso al paradigma economico, sociale e politico vigente rispetto al quale, per citare ancora una volta signora Thatcher, there is no alternative, non c'è alternativa, cioè la politica è pura manutenzione di un paradigma che non è più messo in discussione, in modo al paradigma economico, politico e sociale che non è più messo in discussione. Questo paradigma è fondato sull'utilità, ma per essere accettato socialmente deve essere presentato in modo euforico, cioè oltre che sull'utilità deve essere accettato in base a speranze estremamente forti, a mobilitazioni personali estremamente convincenti ed è anche presentato e reso e legittimato attraverso la morale. Una delle caratteristiche fondamentali del neoliberalismo è lo spostamento dell'attenzione verso la morale, cioè da una parte esistono meccanismi tecnici di produzione che non possono essere in alcun modo messi in discussione, esistono strutture economiche inamovibili, privi di alternative in cui c'è chi comanda, c'è chi obbedisce, c'è chi presta capitale, c'è chi presta forza lavoro con sempre minori diritti, perché i diritti sono qualche cosa che ostacola il libero movimento dell'economia e tutto ciò non è oggetto di discussione, non fa parte di nessuna agenda politica. Tuttavia al tempo stesso viene dato enorme spazio a questioni etiche di ogni genere, purché non riguardino naturalmente il momento della produzione, da cui lo scambio, come si dice, tra diritti sociali e diritti civili. Si smette di cercare la sinistra particolarmente cessa di perseguire l'implementazione dei diritti sociali dei cittadini della sua parte di società e diventa, a sinistra, la promotrice dei diritti civili di tutte le minoranze possibili. E dall'altra parte la destra, il capitale, diventa capitalismo compassionevole, cioè non mette assolutamente in discussione se stesso, ma si permette atti di pietà, di compassione nei confronti dei vimpi della società. L'enorme rilievo dato alla dimensione etica, la tendenza continua e esasperata a produrre dilemmi etici va di pari passo con la incapacità di vedere le questioni strutturali. Ancora, sotto il profilo politico uno degli fenomeni fondamentali, oltre appunto al discredito di Stato, partiti, sindacati, vi è la liberazione dell'autorità monetaria rispetto all'autorità politica. Quello che in Italia fu chiamato il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, consumato nel febbraio dell'81 fra Andrea Precianti, Ministro del Tesoro, Governatore della Banca d'Italia, con sottrazione della massa monetaria sostanzialmente rispetto alla politica, cioè fine di quello che gli economisti chiamano il signoraggio, il comando politico sulla moneta. E quindi l'inizio dell'indebitamento del Paese, perché se non c'è più la capacità sovrana dello Stato di finanziare se stesso stampando moneta o emettendo titoli di debito che verranno sicuramente ricomperati dalla propria Banca di Stato, ma in questo caso la Banca d'Italia, se non c'è più ciò e il divorzio è proprio questo sancice, allora lo Stato quando ha bisogno di soldi li deve andare a prendere sul mercato dei soldi, cioè sul mercato finanziario internazionale, come qualunque cittadino quando ha bisogno di soldi non può stamparseli e evidentemente deve andare a prendere a prestito da chi glieli dà a interesse. Quindi fine, ed ecco l'obiettivo economico, fine dell'inflazione, lo Stato non stampa più, lo Stato non emette più titoli che vengono ricomperati sicuramente dalla Banca d'Italia, ma accanto alla fine dell'inflazione che in effetti è stata abbattuta agli inizi degli anni Ottanta, abbiamo l'incremento esponenziale del debito pubblico. Questo perché lo Stato è considerato come un singolo cittadino che è tenuto come ogni singolo cittadino a non far aumentare la massa monetaria. La massa monetaria è indipendente rispetto al comando politico. Ora, per quanto riguarda, abbiamo detto, la politica, è questo il mondo dentro il quale ci muoviamo. Per quanto riguarda il mood sociale, i paradigmi di fondo, abbiamo visto concorrenza che vuol dire disuguaglianza, non uguaglianza. Abbiamo visto valutazione, abbiamo visto individualismo metodologico e naturalmente marginalismo e utilitarismo e abbiamo visto che tutto ciò apre a una cosiddetta società del rischio, taglia i legami sociali, cioè non ci sono più, non sono più coltivabili legami ad esempio di carattere lavorativo con distruzione dei sindacati, cambia il modo di pensare alla società come a un insieme in cui nulla si sottrae in linea di principio al principio economico e alla valutazione. Abbiamo visto come questo nuovo paradigma sia un paradigma di sostanziale sconfitta della sinistra storica. Non a caso questo paradigma nasce a metà degli anni 70, è attivo negli anni 80 ed è praticamente una delle cause che portano alla rovina il sistema comunista internazionale, poiché è un paradigma che nel breve periodo è infinitamente più efficiente del paradigma dell'economia di comando comunista. Naturalmente questo paradigma ha in sé un tasso di rischiosità, di disuguaglianza, di asimmetria interna fra il capitale e il lavoro, fra il capitalista vero che ha tutte le informazioni e il capitalista presunto l'imprenditore che è in ciascuno di noi, l'imprenditore che siamo ciascuno di noi, che in realtà non ha nessunissima informazione, che è guidato dai media e non ha la capacità di orientare i media o di cooperarli, un'assimmetria insieme di differenze, da una parte di differenze abissali fra la società e pochissimi ricchi, in cui si concentra sempre di più la ricchezza. Dall'altro un fenomeno di livellamento sociale, questo paradigma neoliberista è rivolto essenzialmente contro il ceto medio e contro le aristocrazie operarie, cioè contro quelle forze, quei blocchi di società che avrebbero potuto fare una resistenza autonoma alle logiche economiche e devono essere spazzati via, non ci devono essere forme di resistenza, tutti devono essere sottoposti al rischio, questa è una società del rischio, nessuno può dire che io sono esente da rischio perché ha un posto di ruolo, perché ha una pensione assicurata. fra le operazioni tipiche del potere politico è di dimostrare che ciò non è vero, che il lavoro a vita, il lavoro di ruolo è un lavoro sgradevole, che deve essere cambiato o che comunque non conviene al datore di lavoro al quale conviene molto di più una delle infinite forme dei contratti flessibili che la giurisprudenza del lavoro ha inventato. tutto ciò subisce un colpo molto grave, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, dalla grande crisi del 2007-2008 dei mutui subprime negli Stati Uniti, perché questo paradigma economico fa accumulazione primitiva con bolle finanziarie, non costruisce ricchezza autentica, costruisce bolle finanziarie, cioè punta su determinati beni e ne fa aumentare vertiginosamente il valore e poi a un certo punto questo valore diventa insostenibile e crolla. Cioè è un capitalismo finanziario molto più che il capitalismo reale. Il comando della finanza sull'economia reale fa parte delle logiche profonde del neoliberalismo. Il comando della finanza vuol dire essere esposti a bolle, a esplosioni delle bolle. La bolla del 2008, il fallimento di Lehman Brothers è stata devastante perché ad essa, al suo scoppio, in Europa, non negli Stati Uniti, dove al crollo della bolla si è risposto in modo molto pragmatico stampando dollari, perché naturalmente il paradigma è violabile da chi ne è il Signore. È in Europa che allo scoppio della bolla, che è sostanzialmente un fenomeno deflattivo, si è risposto con l'austerità, cioè aggravando la malattia. E qui veniamo all'ordo liberalismo, perché l'Europa, quando ha risposto allo scoppio della bolla del 2008, alla bolla chiamiamola neoliberista, l'Europa era tutta divenuta interna a un altro paradigma, un paradigma ordo-liberista. Che cos'è? Quel convegno economico parigino del 1938, di cui abbiamo parlato, ha visto l'inizio della separazione fra la scuola austriaca e il neoliberismo, è una scuola di economisti tedeschi che hanno continuato a definirsi neoliberisti fino a circa la metà degli anni 40, quando hanno assunto i nomi di ordo-liberista, ma che ragionavano in modo un po' diverso. Chi sono questi economisti? Sono nomi in Italia non particolarmente noti, Walter Eucken e il loro caposcuola, Alexander Ristoff, Franz Böhm, Wilhelm Rebke, Alfred Müller-Armack e altri. Hanno cominciato a scrivere le loro cose importanti sostanzialmente nei primissimi anni 30. Nel 32, nel 32, compaiono alcuni testi di capitale importanza di Eucken, in statiche stutture, la strutture, la crisi del capitalismo, Ristoff, Interessenpolitik o Statspolitik. Nel 33, Franz Böhm scrive Wettbewerbe e Monopolkampf. Nel 33, ancora Rebke scrive il capolavoro di Grundlagen, Nazionale Economie, che viene stato tradotto in italiano nel 51, il fondamento dell'economia politica. Negli anni 40, poi, vi è la grande divulgazione di Wettbewerbe Rebke con la trilogia, la crisi sociale del nostro tempo, chività umana e ordine internazionale. Chi sono e che cosa vogliono? Diciamo così, se il neoliberismo è una forma di socializzazione dell'economia, cioè l'economia si sostituisce alla società e dunque vi è una sorta di espansione del mercato politicamente permessa dal fatto che lo Stato fa le proprie riforme, cioè smantella se stesso. L'ordoliberalismo tedesco, invece, si fonda su una sorta di interventismo politico a favore del mercato. È leggermente diverso sotto il profilo concettuale. Lo Stato è non interventista, secondo il modello ottimale neoliberista. Lo Stato è interventista, entro certi limiti, secondo il modello ottimale ordoliberista. Che cosa vuol dire? Lo Stato gendarme, quello dell'ordoliberismo, uno Stato che attivamente sorveglia che non si fornino cartelli, e cioè la concorrenza sia una concorrenza perfetta, che gli attori sociali e economici, tanto i capitalisti quanto i sindacati, non vadano alla ricerca di aiuti e sussidi statali, che in Germania non è mai avvenuto, né in epoca vajmariana, né in epoca nazista, né in epoca democratica. E tuttavia nel modello teorico degli ordoliberisti c'è che l'economia deve girare da sola. Certo, con la presenza di uno Stato forte, la parola Stato forte è ricorrente, con la presenza di uno Stato forte che attivamente sorveglia che le regole non vengano violate e che dunque si formi l'ordine. E dunque anche qui abbiamo una teoria dell'equilibrio della concorrenza, però qui entra in gioco l'antico organicismo tedesco, verosimilmente riflessi della polizia e disensiato, cioè l'idea che la società debba essere continuamente sorretta dal potere politico attraverso l'amministrazione. Ripeto, non sorretta attraverso azioni di denaro o sconvolgimenti del rapporto domanda offerta, ma sorretta attraverso una continua sorveglianza e una continua regolazione del mercato. Anche qui abbiamo quello che è presente nel neoliberismo, cioè un'ossessione monetaristica deflazionistica. La grande inflazione tedesca, una iperinflazione del 1923, ha segnato di fatto la coscienza della nazione tedesca in modo irreversibile. Più che mai il nemico è la inflazione. Più che mai il modello è un modello di, come il neoliberismo, ma anche il nordoliberalismo è un modello di, come si dice, grande moderazione salariale. Una volta distrutti i partiti di sinistra e sindacati, tutto ciò riesce molto facile. Una società fatta di individui e fatta di persone che hanno un tale squilibrio negoziale rispetto ai datori di lavoro che sicuramente l'obiettivo della moderazione sindacale verrà raggiunto. Anche in Germania, nonostante l'alto livello delle retribuzioni, di una parte delle retribuzioni, queste sono largamente al di sotto delle possibilità del sistema economico. largamente al di sotto. Oggi poi che a partire dal 2003-2004 il cancelliere socialdemocratico Schroeder ha operato un riforme del modello ordo liberista tedesco per adattarlo all'oceano dentro il quale l'ordoliberalismo si deve muovere, che è un oceano neoliberista. Dopo che sono state fatte queste riforme del 2003-2004 sono stati introdotti anche in Germania forme di precariato e di lavoro sottopagati, i cosiddetti mini-jobs. In ogni caso il modello tedesco si caratterizza per organicismo, per teoria esplicita dello stato forte, per teoria esplicita dello stato interventista perché vengono rispettate le regole e per una forte torsione, dunque un'attenzione esasperata al pareggio di bilancio e una forte torsione in senso neomercantilistico dell'economia. Cioè l'economia è orientata alla produzione per l'esportazione, non alla domanda interna ma alla esportazione. Non a caso i tedeschi sono insieme ai cinesi i più grandi esportatori del mondo, squilibrando la propria bilancia dei pagamenti ben oltre quanto sarebbe stato consentito dai trattati di Maastricht. Che cosa centrano i trattati di Maastricht? Centrano perché l'ordoliberalismo è stato adottato dalla Repubblica federale tedesca dalla sua nascita. L'uomo degli ordoliberisti era quello che poi diventerà cancelliere, Ludwig Erhard, che nella Germania federale fu il ministro dell'economia del primo cancelliere democratico, Adenauer. Erhard era uno della scuola di Friburgo, cioè era interno al gruppo degli ordoliberisti, fa passare l'ordoliberismo come filosofia politico, economico e sociale della Repubblica federale tedesca col nome di economia sociale di mercato. Che la Germania si tiene anche quando c'era un occidente tendenzialmente keynesiano. Vi era in Germania un capitalismo un po' diverso. Allora veniva chiamato capitalismo o reinano. Noi sappiamo che era un capitalismo fondato sulla variante ordoliberista del pensiero economico. L'ordoliberismo è diventato il pensiero economico e la realtà economico finanziaria dell'Europa perché l'euro è costruito tutto sopra i presupposti. Questo fa dell'euro un problema perché nasce l'euro dentro una realtà che adesso è perfettamente adeguata, la Germania, e si impone a realtà economiche che come vediamo fanno un'enorme fatica ad adeguarsi al modello. Questa fatica è misurata attraverso lo spread. È molto semplice. La rilevanza teorica tanto del neoliberismo quanto dell'ordoliberalismo è grande, non è enorme perché non sono all'opera qui paradigmi assolutamente innovativi, assolutamente alternativi. Tuttavia sono paradigmi che fanno parte strutturalmente della nostra vita, sono proprio la struttura della nostra società e della nostra politica e devono, il pensiero critico deve prima di tutto essere in grado di rilevarli, di farli emergere nella loro essenzialità. Dopodiché quello che si può e si deve fare è un'altra storia. Farli emergere è vedere come siamo davanti a una enorme sconfitta delle sinistre che hanno perduto proprio il terreno sul quale lavorare, cioè i concetti fondamentali della loro esistenza, cioè valore lavoro, estraneazione, emancipazione e le loro capacità di organizzare la politica del sindacato in questa ottica. Come la sinistra abbia virato verso un'interpretazione etica della realtà e quindi abbia lasciato da parte i diritti sociali per gettarsi sui diritti civili e come la politica si sia indebolita e abbia sostanzialmente perduto la capacità di dirle l'ultima parola sulla vita e sul destino delle società. L'ultima parola oggi viene detta dall'economia. Il grande conflitto e qui bisogna chiarirsi l'economia continua ad avere bisogno della politica sia chiaro e tuttavia di una politica che non si creda superiore all'economia. Naturalmente gli ordo liberalisti hanno maturato una altissima diffidenza per ogni motivo nei confronti di ipotesi iperpolitiche. Loro hanno vissuto dentro il nazismo, alcuni hanno collaborato, altri sono andati in esilio, molti hanno collaborato in realtà da posizioni tecniche, cioè tentando dall'interno del Ministero dell'Economia di evitare le derive pianificatorie che essi vedevano poste in essere della Germania nazista e che reputano e sono il grande nemico storico. Tutto questo sistema di pensiero ha come nemico tanto il neoliberalismo quanto il neoliberalismo non è neanche le teorie del piano evidentemente, cioè le teorie secondo le quali l'economia è guidabile. L'economia non deve essere guidata, tuttavia l'economia che non deve essere guidata deve essere assecondata e può essere messa e può essere utilizzata dal potere politico in un gioco incrociato fra l'economia e la politica, di reciproca utilizzazione. Chi utilizza chi? L'economia utilizza la politica perché le renda facile svilupparsi. La politica nei casi migliori utilizza l'economia per i vecchi scopi di potenza nazionale. In Europa noi vediamo proprio questo, non c'è un pensiero politico alternativo, cioè tutti hanno per scontato che la politica serva a far funzionare l'economia, certo, e tuttavia in Europa persiste fortissima la presenza di alcune sovranità politiche le quali sono capaci di generare un rapporto positivo con la propria economia tanto che si può dire esiste un capitalismo tedesco, esiste un capitalismo francese, nel senso che questi capitalismi vanno liberamente alla ricerca del profitto e tuttavia sono orientati, non di più, sono orientati da alcuni interessi strategici nazionali interpretati dal potere sovrano. E dunque noi quello che vediamo in Europa oggi è proprio questo, cioè l'economia essere da una parte non discussa e dall'altra essere al servizio in qualche modo di poteri sovrani, non al servizio, guidata, orientata da poteri sovrani. E lo stesso vale a livello mondiale, a livello mondiale vediamo un'economia indiscussa, cioè quella che viene chiamata la globalizzazione, la libera circolazione di uomini, merci capitali, la interconnessione del mondo con se stesso e tuttavia insieme a questa, che non è messa in discussione a livello teorico, al massimo può incettarsi, ma a livello teorico non è messa in discussione da nessuno, accanto a questo vediamo un fenomeno per cui alcuni grandi centri di potere politico, senza mettere in discussione l'economia, la orientano. La indirizzano sulla base di interessi strategici nazionali. Pensate, esiste un capitalismo cinese, esiste un capitalismo statunitense, non nel senso che i grandi capitalisti prendano ordini dal potere politico, ma nel senso che il potere politico riesce bene o male a indicare delle questioni che non possono essere lasciate aperte o a indicare degli obiettivi che devono essere raggiunti. O viceversa il potere politico si fa carico di creare le condizioni perché il proprio capitalismo abbia maggiore successo del capitalismo ultimo e questo interventismo sono le politiche tariffarie, doganali eccetera. Per cui non è vero che la politica è scomparsa. La politica è, secondo il pensiero neoliberista e odoliberista, al servizio dell'economia. Nella realtà empirica ciò è assolutamente vero da un certo punto di vista, dall'altro nella realtà empirica la politica, quando ha sufficiente energia, riesce a deviare un ipotetico flusso naturale, tra mille virgolette, delle forze economiche. La riflessione a questo punto si aprirebbe sul rapporto tra geopolitica geo economia e tuttavia abbiamo già superato di gran lunga il tempo assegnato e quindi chiudiamo qui. Grazie per l'attenzione.